La novità della settimana per la San Giovannese è l'esordio di Caprio dal primo minuto in attacco dopo diversi spezzoni disputati durante la stagione. Così Bellini scala il ruolo da trequartista, torna invece il capitano Rossetti al centro della difesa. I guzzoli bassi sono Baldesi e Cesaretti, mentre a Miccoli, sempre ai box, si aggiunge in infermeria a Zar. Nofri, trainer ex di turno, dal canto suo schiera il miglior Flaminia possibile dopo il turno di Coppa nel quale aveva compiuto ampio turnover. Come sempre la trazione anteriore, l'arma principale dei Viterbesi. La partenza di entrambe dei rivali, passiamo alla cronaca, è piuttosto timida. Prova ne sono le note che rinnovano il taccuino. Senza pretese dal limite è Bellini, chiama il primo disimpegno della Pina. Da parte opposta, da distanza siderale, Simoncini non può creare problemi a Cipriani che blocca. Al diciottesimo poi la Sangio si livora al vantaggio. A seguito della ripartenza, due contro uno e la triangolazione tra Caprio e Bellini. Palla di ritorno per il numero 11 che a tu per tu con l'estremo ospite però gli spara addosso il raso terra. È comunque un approccio migliore alla partita da parte del Marzocco che non va nuovamente lontano dal vantaggio. Minuto 26, difesa a Caparvia della sfera di Bellini, diagonale raso terra che supera l'intero specchio della porta Viterbesi. Il primo tempo del Flaminia sta tutto, quasi invece nell'incornata di Sciamanna, su traversone da destra. Lontani i legni difesi da Cipriani. In apertura di ripresa la Sangiovanese concretizza la superiorità evidenziata nel primo tempo e se la prima ribattuta sottoporta non è certo fortunata, l'invenzione di Bellini è pregevolissima ed il diagonale a scendere va a insaccarsi alle spalle di Della Pina all'incrocio opposto 1-0. La punizione di Rossetti, stava al settimo giro di Lancetti, è caricata in seguito di troppi giri ma da parte opposta al corner del Flaminia è velenoso come una specialità di Lucrezia Borgia. In mischia risolve Marchi per l'1-1. Di fatto è uno shock per i padroni di casa anche se Poli cerca di imitare il compagno Bellini provando a girare dal vertice in modo speculare con la punta delle dita Della Pina mette in corner. Cipriani da parte opposta sbaglia lo stop a seguire in uscita e fallisce il rinvio consegnando a Simoncini l'azione del possibile lob che potrebbe costare il suo passo se non ci fosse Milani decisivo sulla linea a salvare il risultato di testa. Il pari però non accontente Toscani nel giro di due minuti Migliorini prima e Bellini poi salgiano i riflessi sempre pronti del portiere ospite con la situazione che non si smuove dal pari anche perché in pieno recupero terzo su quattro giri di lancette Migliorini entrato nella ripresa circa il pallone del rigore in movimento che poteva valere due punti su tre. Finisce quindi San Giovannese 1-Flaminia 1.